ciao amici di youtube bentrovati al cielo della settimana che questa volta è ben più della settimana perché parliamo di venere in leone ed è un transito che rimarrà attivo fino al 22 luglio parlando di venere si parla d'amore è un transito che ci porta nel cuore dell'estate della stagione della leggerezza e delle conquiste per cui ci sarà da divertirsi ma prima di entrare nel vivo le solite raccomandazioni mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuna delle uscite e mi raccomando questi sono solamente alcuni aspetti dell'oroscopo della settimana che potete trovare al link qui sopra ok ho detto tutto siamo pronti a partire andiamo ed eccoci qui allora vi ho dato un po tutti il recap di quello che è uscito negli ultimi tempi e direi di entrare nel vivo della serata oggi ci occupiamo di questa guest star di questo cambio della guardia così importante ci occupiamo di venere pianeta dell'amore della bellezza dei rapporti che oggi ha cambiato segno è lasciato il cancro ed è entrata in leone e questo cambia un po lo scenario di tutti i segni zodiacali soprattutto per ciò che riguarda il fascino il carisma l'autostima le conquiste i rapporti affettivi le situazioni che riguardano il cuore gli incontri nuove conoscenze insomma cambia un po tutta la scacchiera e parliamo proprio di questo venere entra in leone allora innanzitutto diciamo che quando un pianeta cambia segno cambia anche il suo insegnamento cambiano un po i temi che accende un po per tutti i segni dello zodiaco pensiamo che stiamo parlando di venere che il pianeta dei rapporti nel leone che il segno del protagonismo il segno del coraggio della dignità dell'orgoglio dello spirito di conquista e quindi venere in leone è un po se vogliamo trovargli un sillogismo è un po il coraggio di amare è un po la spinta a fare sul serio nei rapporti se ci credo fino in fondo vado dritto per la mia strada salgo di livello voglio la favola voglio tutto non mi accontento se non ci credo fino in fondo arriva il momento in cui probabilmente penso di mettere un punto se ci sono delle parole che ancora non ho avuto il coraggio di pronunciare se c'è un sentimento che non ho avuto il coraggio di dichiarare venere in leone è quella spinta che dice apri bocca con orgoglio con dignità e dillo parlane dichiarati vivi quello che senti venere con la fierezza con l'orgoglio e con la piena dignità del leone e questo è un po lo scenario che da qui al 22 luglio accompagnerà tutti e tutti quanti i segni zodiacali poi qualcuno lo prende come una spinta di poppa qualcuno lo prende come una sfida a seconda delle qualità di ciascuno ma il comune denominatore è questo cioè vivi l'amore fino in fondo con coraggio con passione senza fermarti senza lesinare senza aver paura di dare nell'occhio senza aver paura di essere giudicato credendo in te stesso e mostrandolo con tutta la pienezza e la fierezza del leone questo io ci tengo tantissimo a questo aspetto perché molto spesso ci concentriamo troppo sul transito a favore o sul transito contro e perdiamo di vista quello che è il significato del transito in sé ma l'astrologia non è un videogioco non è come super mario che a un certo punto prendi il funghetto avvelenato e rallenti oppure prendi il funghi il booster e vai più veloce l'astrologia è più un gioco di significati simbolici e il significato simbolico di questo transito di venere in leone che ci accompagnerà fino al 22 luglio è proprio vivere i sentimenti con l'orgoglio con la pienezza e senza fermarsi senza lesinarli e tra l'altro è anche significativo il fatto che venere pianeta dell'amore pianeta dei rapporti entri in leone che è il segno dell'orgoglio della fierezza del protagonismo proprio nei giorni in cui festeggiamo il gay pride proprio nei giorni in cui festeggiamo lo splendore dell'unicità delle proprie scelte il fatto di viverle fino in fondo con orgoglio senza aver paura di dare nell'occhio e questo lo dico proprio perché è forse il tema di fondo più importante di questo transito se sento qualcosa se provo qualcosa le do voce senza senza mezzi termini senza fermarmi senza aver paura di dare nell'occhio anche se si tratta di dichiarare un sentimento a qualcuno anche se si tratta di mettermi in gioco o la va o la spacca perché per il leone il ruggito è qualcosa di incontenibile per cui non posso viverlo col silenziatore il ruggito non chiede il premesso non bussa prende e rugisce detto questo però chiaramente andiamo a vedere un po come questo incide nel cielo dei vari segni e diciamo che i grandi protagonisti di questo nuovo transito di venere in leone sono naturalmente i segni di fuoco il leone l'ariete ed il sagittario per i quali venere a favore venere nel segno per il leone ma venere a favore anche per l'ariete e per il sagittario significa l'inizio di una stagione del cuore che durerà tre settimane fino al 22 luglio e che può veramente fare una differenza può veramente per chi cerca un nuovo amore aprire nuove strade portare nuove conoscenze portare ad allargare la cerchia delle amicizie portare a fare un incontro vincente ma soprattutto prima ancora significa riscoprire la sicurezza in se stessi riscoprirsi belli piacersi piacere agli altri ritrovare il coraggio di affermarsi di non tirarsi indietro per cui è un po un bagno di bellezza ed è un bagno di dignità personale per cui sicuramente saranno tre settimane di incontri di conoscenze di leggerezza questo è un transito che ci porta veramente per mano nel vivo dell'estate per i segni di fuoco ma ancora prima torneranno a sentirsi più sicuri di sé torneranno a ruggire di dignità e d'orgoglio e questo è molto importante un po per tutti e tre ma soprattutto per la riete che viene da tre settimane con venere in quadratura che l'ha fatto sentire un po il brutto anatroccolo che è una caratteristica è una situazione assolutamente anomala per la riete che comunque un segno spavaldo un segno intraprendente un segno che ha anche un po la faccia come il culo mentre invece nelle scorse tre settimane si è sentito sempre un po da meno si è sentito sempre un po indietro per cui segni di fuoco in cima alla classifica questa venere è per voi sotto i segni di fuoco ci sono due segni d'aria che beccano comunque questo questa bella spinta di poppa e sono i gemelli e la bilancia per i gemelli è una bella venere in terza casa la casa è la terza casa è la casa della comunicazione e quindi venere in leone per i gemelli è proprio la spinta necessaria a parlare d'amore ad aprire bocca a pronunciare le giuste parole ad affrontare un discorso se c'è una persona che vi interessa con la quale ancora non vi siete dichiarati ad affrontare un discorso col partner se ci sono delle situazioni da rimettere in carreggiata e finora non avete trovato la forza di parlarne apertamente di affrontare il discorso devisu ma anche proprio la capacità di smuovere certe situazioni penso ai gemelli che hanno per le mani un rapporto che non evolve da settimane allora venere in leone è proprio la spinta per aprire il discorso e dire oh ma io e te insieme che dobbiamo fare cosa siamo cosa possiamo costruire e per la bilancia innanzitutto diciamo che è una venere che lascia la quadratura quindi stesso discorso che abbiamo fatto per la riete vale anche per la bilancia bilancia nelle scorse settimane con venere in quadratura venere anche il pianeta governatore della bilancia quindi è un po il suo nome tutelare con venere storta la bilancia si è sentita un po una scarpa vecchia ha sempre visto il lato peggiore di se stessa si è sentita insicura si è sentita anche un po fisicamente sottotono dimessa brutta ma non voglio usare questi termini estetici però sicuramente è una bilancia che non si è vista con occhi clementi e che invece adesso ricomincia a vedersi con occhi più gentili più generosi comincia a riscoprire la propria bellezza e soprattutto comincia ad allargare la cerchia delle amicizie è una venere nell'undicesima casa che è la casa delle nuove conoscenze nuove amicizie che possono portare nuovi amori ma che ancora prima per la bilancia rappresentano un'espressione di indipendenza cioè anziché vedere sempre il solito giro di amici anziché uscire sempre con le solite persone anziché stare sempre nel perimetro delle mie sicurezze che in qualche modo è un rannicchiarsi in una zona di comfort sai che ti fa la bilancia con questa venere che non è più in quadratura ma che torna a favore comincia ad allargare gli orizzonti comincia ad incontrare nuove persone comincia a sentirsi forte della propria del proprio fascino della propria bellezza di se stessa e tornare in conquista per cui è sicuramente un cambio di polarità importante dei giamelli ho già parlato e ho detto che comunque è una venere che accentua la capacità di parlare d'amore di affrontare certi discorsi e di rimettere certe situazioni sul giusto binario poi arriviamo a tre segni che invece ricevono questa venere in leone come se fosse una sfida e quali sono sono gli altri segni fissi e quindi sono l'acquario che se la becca in opposizione ma prima di incupirvi parliamo bene di cos'è un'opposizione e del toro e dello scorpione che ricevono venere in quadratura allora toro scorpione e acquario venere in posizione dissonante le posizioni dissonanti che siano l'opposizione che siano la quadratura hanno sempre il senso di smuovere hanno sempre il senso di spingere ad una scelta ad una decisione ad una presa di posizione ad una scelta di campo e quindi sono un po quella spintarella che ti dà l'assist per fare qualcosa che altrimenti non avresti fatto un po il calcetto nel sedere chiaramente parliamo di venere quindi parliamo di rapporti parliamo di una venere in leone quindi parliamo del coraggio di vivere i rapporti fino in fondo che cosa fa venere in leone per il toro per lo scorpione e per l'acquario è come se alzasse la sticella nei rapporti e spingesse a dire se ci credi fino in fondo accetta la sta sfida fai di più impegnati di più sii pronto a definire un rapporto sii pronto ad impegnarti fino in fondo anche se questo significa rinunciare alla libertà chiudere delle vie di fuga e stare dentro il rapporto fino in fondo parlo dell'acquario che ce l'ha in opposizione e che potrebbe uscire dal mese di luglio ad esempio scambiandosi una proposta importante fissando una data per un matrimonio decidendo di andare a vivere insieme decidendo che io e te stiamo insieme se parliamo di rapporti più recenti insomma impegnandosi entrando in un rapporto senza vie di fuga e lo stesso riguarda il toro e lo scorpione dove è come se salisse la sticella di un rapporto se ci credo fino in fondo ci vado se non ci credo fino in fondo è il momento in cui rivedo un po di situazioni venere in quadratura in opposizione mi fa pensare sempre al tavolo da gioco quando si gioca a poker se tu sei convinto del punto che hai in mano di fronte al rilancio di un altro giocatore dici vedo e rilanci a tua volta se invece non sei sicuro del punto che hai in mano è il momento in cui rischi di lasciare il tavolo per cui potrebbero esserci nel cielo nel cielo di cui dei segni fissi quindi del toro dello scorpione dell'acquario nelle prossime settimane potrebbe esserci quel discorso imbarazzante quel momento imbarazzante in cui bisogna capire se una nuova relazione può funzionare sulla lunga oppure no se è stata una botta di matto un fuoco un fuoco di paglia oppure se ci piacciamo sul serio se sono pronto a buttarmi ci dentro fino in fondo oppure no poi nel dettaglio per il toro potrebbero essere questioni che riguardano la casa andiamo a vivere o no insieme traslochiamo dove 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 buttiamo l'ancora per lo scorpione significa prendersi la responsabilità di una decisione importante di coppia questo rapporto lo teniamo in piedi o no chi prende l'iniziativa per l'acquario significa capire se entrare in un rapporto anima e corpo oppure se mettere un punto e chiuderlo ma non è più tempo di stare con un piede dentro e con un piede fuori arriviamo ad altri due agli ultimi quattro segni che in qualche modo hanno una venere che non dico che è neutrale ma che è meno importante nel loro cielo e sono meno importante meno importante per i sentimenti ma comunque importante sono innanzitutto il cancro ed il capricorno allora il cancro riceve un transito di venere nella seconda casa che è la casa della concretezza e quindi tutta una serie di nuove relazioni che sono sorte nelle scorse settimane bisogna capire se possono funzionare oppure no sulla lunga tutta una serie di aspirazioni sentimentali bisogna capire se possono poi scendere a terra e diventare concrete quindi questo potrebbe essere un momento in cui il cancro soprattutto dinanzi ad un rapporto recente mette diciamo si siede a tavolino e cerca di capire se può funzionare oppure no per le coppie più stabili può essere un momento in cui si cerca di capire se certi progetti si possono fare in che tempi quanto costano ed è un momento di grande concretezza tra l'altro piccolo qualcuno chiede del sagittario ne abbiamo già parlato il sagittario è top con questa venere in leone dicevamo per il cancro è anche un momento in cui in termini lavorativi ma nei rapporti in generale bisogna il cancro ha bisogno di essere valorizzato e apprezzato di più per cui molti potrebbero intrattenere delle discussioni sul lavoro per avere più soldi per essere messi in regola per essere ricompensati della qualità del proprio lavoro molti potrebbero affrontare dei discorsi in coppia per avere un ruolo più centrale per dividere meglio i compiti per non essere sempre e perennemente quelli che tirano la carretta per cui è un cancro che diciamo affronta una serie di discorsi che servono a farlo rimettere al centro e acquisire una posizione più protagonista per il capricorno significa liberarsi di un'opposizione di venere che nelle scorse settimane ha un po affaticato i rapporti affettivi e soprattutto avere le idee molto chiare per cui se una situazione funziona se ci credo fino fino in fondo ci punto altrimenti è proprio il momento di tagliare i rami secchi di mettere un punto di chiudere ed è un transito che invece sul campo lavorativo permette di trovare sponsor finanziatori risorse per un progetto per cui è un po come se il capricorno fosse in una fase di trasformazione molto molto profonda sia sul lavoro che in amore se un rapporto ha dato prova di funzionare ci investe fino in fondo se un rapporto scricchiola se lo vede in dubbio se non sa se può fidarsi o non può fidarsi è arrivato il momento di mettere un punto e guardare altrove sono rimasti fuori solo due segni che sono la vergine e i pesci allora per la vergine è una venere in dodicesima casa la dodicesima casa si sa è la casa delle attese è la casa della riflessione del ricongiungimento con se stessa quindi la vergine in questo momento potrebbe avere bisogno di stare un po più per conto proprio di prendersi i propri spazi di riappropriarsi del proprio tempo di non essere sempre a disposizione del pubblico come uno sportello aperto h24 ma tornare a dedicare più tempo a se stessa questo è il motivo per cui ad esempio chi ha da poco chiuso una storia ha bisogno di riprendersi la sua vita potrebbe essere un momento in cui chi vive una storia nuova se la vuole vivere tra sé e se a porte chiuse senza avere fretta di buttarla in pasto ad amici a conoscenti anche per capire meglio la natura di un sentimento e questo è un momento in cui soprattutto eliminare le scorie e staccarsi un po da tutte quelle che in passato sono state delusioni da tutto quello che è stato diciamo un delle esperienze non edificanti in amore perché dal 22 luglio venere torna in vergine e quindi apre un nuovo importante capitolo del cuore la fine di luglio il mese di agosto saranno straordinari e bisogna arrivarci avendo recuperato energie e avendo eliminato un po di scorie del passato parlo chiaramente dei singoli parlo chiaramente di chi ha da poco chiuso una storia chi è in un rapporto comunque potrebbe aver bisogno di dire al partner lasciami un po d'aria lasciami fiatare lasciami un po i miei spazi non mi stare costantemente addosso e soprattutto dividiamoci un po meglio i compiti perché qua mi pare che faccio tutto io per i pesci che sono all'opposto della vergine è una venere in sesta casa che innanzitutto sul lavoro permette di creare dei ritmi più sostenibili delle routine migliori di smussare certi angoli nelle discussioni perché ha iniziato un nuovo lavoro permette di andare un po a regime di non sentirsi perennemente esposti alle intemperie quindi è comunque una venere che aiuta moltissimo nelle dinamiche di lavoro dal punto di vista strettamente affettivo permette ai rapporti nuovi di cominciare ad andare a regime per cui di capire se funzionano sulla lunga oppure no e c'è anche il rischio rischio tra mille virgolette per i pesci di viversi una storia che nasce come un fulmine a ciel sereno nell'ambiente di lavoro tra le scrivenie dell'ufficio alla fotocopiatrice davanti alla macchina del caffè allora qui è chiaro che possono essere anche delle sorprese interessanti però attenzione a non andarsi ad inguagliare la vita in situazioni complicate allora abbiamo fatto un po una carrellata su questa nuova venere in leone segno per segno che comunque trovate anche sul sito è uscita questa mattina la trovate abbiamo parlato anche dei gemelli abbiamo parlato di tutti e che soprattutto però ci tengo a dirlo ancor più del fatto che sia nel segno che sia in opposizione che sia in quadratura che sia in sesta casa che sia dove vi pare a voi ha comunque un comun denominatore ed è quello di riscoprire la grinta l'energia il coraggio e la dignità dei rapporti e mi riferisco qui a chi vive un rapporto a metà a chi si accontenta di una relazione nata clandestinamente che a dispetto di mille promesse non è mai uscita allo scoperto a chi sta con una persona che un po si dà e un po sparisce a chi ha chiuso un occhio di fronte a mille situazioni che non vanno come desidera a chi si è accomodato in un rapporto che non gli dà più stimoli perché ha paura di scombinare di rompere il gioco e di buttarsi nel nuovo allora venere in leone da questo punto di vista è un richiamo a vivere i sentimenti con energia con coraggio con determinazione e con dignità è un invito a dirsi perché io valgo per cui se sto con una persona che mi rimanda indietro questa immagine di valore ci sto e ci costruisco se sto con una persona disfunzionale che non mi rimanda indietro questa immagine che un giorno c'è un giorno non c'è che mi svilisce nella mia dignità la mando a questo è un po il concetto e credo che sia arrivato forte e chiaro perché prima di qualunque altra cosa prima del trigono prima del sestile del quinquoncio di quello che vi pare a voi venere in leone significa mi riprendo la mia dignità nei rapporti interpersonali io vi ringrazio per essere stati insieme vi do appuntamento alla prossima puntata ma vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale che diventerà sempre più grande e più bello di attivare la campanella per non perdere nessuna delle nuove uscite e di andare a leggere l'oroscopo settimanale nella sua forma intera al link qui sopra grazie a tutti